Saranno sempre delle faticacce, l'importante è che si sia pronti a sopportare la fatica per poi dopo andare a raccogliere quanto hai seminato durante la settimana. Mi rompe le scatole, visto che alla vigilia della gara avevo detto che mi rompeva le scatole aver subito sempre gol finora, oggi mi rompe le scatole aver concesso una palla gol nitida su una palla lunga con una superiorità numerica. Questo è il più grosso appunto che posso fare ai ragazzi. Per il resto hanno avuto pazienza, potevamo fare un giropallo un pochettino più veloce, però loro hanno sacrificato tantissimo i loro attaccanti, addirittura venivano a lavorare sempre a schermo sui nostri centrocampisti centrali. Così diventa complicato nella prima frazione, proprio nella prima parte del primo tempo, con gli esterni alti siamo rimasti sempre piatti sulla loro linea dei cinque, non siamo mai venuti a lavorare in zone intermedie per poter tirare fuori anche il terzo difensore centrale dove poi dopo magari poter andare ad attaccare la profondità e questo un pochettino ci ha penalizzato. Poi dopo, se andiamo a vedere, io le valutazioni spesso le faccio fra occasioni da gol concesse e occasioni da gol create. Sulla legittimità della vittoria, ragazzi, credo ci sia poco da dire. Poi, su come è venuta, sugli episodi, sulla qualità di quello che si poteva fare, magari lì allora vi divertirete e potrà essere anche motivo di discussione, però sulla legittimità della vittoria non credo che ci sia niente da dire. Ci siamo arrabbiati perché non è che impazzisce Massimiliano e va a prendere una palla con le mani. L'ha presa perché c'è stato un tocco evidente e sonoro da parte di Bazzoffia. Ci siamo arrabbiati perché Bazzoffia non è stato onesto e non l'ha detto all'arbitro. L'arbitro gliel'ha chiesto, nel momento in cui gliel'ha chiesto e Bazzoffia ha detto di no, ha concesso la punizione. Così è stato e non è stato ripagato. Abbiamo lasciato per strada punti, quindi non lo rispecchia. Poi non so che classifica sarà, la guarderemo al 30 dicembre, ma non rispecchia. Poteva starci il pari col Siena per quello che era successo durante tutta la partita, ma ci dovevano stare la vittoria col Combo e ci doveva stare la vittoria con la Lucchese. Quindi siamo in credito, ma non si fa niente. Andiamo avanti, pensiamo a migliorare perché abbiamo ancora tanti aspetti da dover limare per continuare a crescere e per dare continuità a questo ottimo inizio di stagione.